Siamo in diretta La fortuna e l'onore di avere con noi Riccardo Cristiano che è stato il primo a sapere del festival e l'abbiamo lasciato prima lui quindi ci sembrava giusto e davvero bello iniziare proprio con un autore che si è stato tanto vicino all'inizio Grazie Quindi lascio la parola a Maria Giulia e a Riccardo Cristiano che presenterà il suo libro La compagnia del gruppo e la quarantesima volta Allora intanto ringrazio anch'io perché sei qui Io sono una grande appassionata di fantasy ed è stato suggestivo comunque leggere un urban fantasy ambientato nella nostra calabria soprattutto in una città molto vicina a Conflentina, Mezzia E per le prime pagine anche sulla copertina è scritto che questo è stato un libro nato per caso ma mi parte comunque una vicenda personale e quindi mi piacerebbe sapere qual è proprio questa vicenda personale Ok, se il microfono ce l'ho consente lì abbiamo la tecnica praticamente del fondafonico ecco, ok Va bene, allora Va bene, io inserito ringrazio i libriamenti per avermi invitato perché ovviamente anche alcuni di conflenti e nello specifico queste ragazze che ho accanto a me c'è un'altra in Voltea dove Maria Grazia non la vedo sarà nascosta la copertina qua, grazie perché comunque è bello fare soprattutto queste collaborazioni visto che siamo comunque nella stessa zona che è la calabria, secondo me è la più grande zona e poi rispondo alla tua domanda beh, il libro nasce soprattutto da un'esigenza di ricerca alle volte di sé calcola che il personaggio al quale ho lasciato il nome originale quindi si chiama anche Riccardo, questo lupo disgraziato proprio diciamo una ricerca in sé perché? perché comunque parte tutto dall'idea della rabbia, del cambiamento alle volte il cambiamento che noi vediamo come negativo ci può invece spingere a cambiare in maniera positiva quindi siccome mi è capitato una vicenda dove la rabbia era tantissima ho detto come faccio a mettere a punto questa rabbia e soprattutto dalla rabbia, se è veramente rabbia perché durante il libro e anche gli altri che saranno pubblicati si capirà se il lupo e tutti gli altri si trasformano per la rabbia oppure no io dico questo, che ognuno di noi ha qualcosa da raccontare in questo caso il lupo e sicuramente la compagnia che lo circonda hanno da raccontare il fatto di essere persone comuni da un certo punto di vista non supereroi perché comunque non sono dei supereroi però vogliamo fare della loro unicità, non diversità qualcosa di positivo un po' come state facendo voi qui a Conflenti perché questo è il primo festival che inizia un percorso ed è lo stesso che questi ragazzi, queste persone fanno seguendo questa avventura che è quella di non svendere il proprio territorio perché poi nel libro si capirà che c'è qualcuno che si vuole appropriare dei beni comunque cerca di accentrare la cultura ecco, l'idea era questa nasce anche comunque dall'idea di parlare dei luoghi infatti non ci sono soltanto, non ci sono le mezze si parla anche di Cleto, si parla della Sila e non vi nascondo, vi posso spoilerare che nel secondo e nel terzo sicuramente ci saranno altri luoghi potrebbe esserci anche Conflenti, non lo so, non vi dico niente però si ci saranno molti altri luoghi che ha a che fare con la Calabria dove sono ambientate delle leggende che mi piace raccogliere e raccontare in stile fantasy quindi prima domanda assolta Sì, proprio a proposito delle leggende comunque oltre ai luoghi che ci sono comuni a parole del tetto calabrese noi troviamo proprio delle leggende o dei fatti comunque della cultura culturistica volevo sapere se c'era qualche fonte che vi ha consultato in particolare o se magari anche tu come Lina hai avuto una Lina come per il ricordo del libro a cui è stato svelato poi il più grande segreto sulla sua natura di gruppo Eh, questa domanda non me l'ha fatta ancora nessuno quindi ti rispondo e allora, teoricamente nascono tutte da racconti perché a me piace andare in giro sia quando faccio le escursioni o quando con l'associazione di cui faccio parte traiamo dei percorsi escursionistici ci facciamo raccontare anche dalle persone anziane o anche dalle persone che non sono anziane delle leggende e ti piace raccontare, non so, molti ci raccontano spesso che è vicino a una fontana o comunque una fonte d'acqua c'è sempre qualche fata che si materializza quindi sicuramente le leggende o comunque i racconti derivano proprio dalle persone e il senso proprio anche di questo libro è questo ci sono delle persone con cui ho parlato la Sera Castagna, di esempio, che è un luogo una frazione molto piccola sopra la mezza dove magari l'anziana, non ho incontrato io un po' di tempo fa ma anche qualche altro ragazzo che si è imbattuto in lei e gli raccontavo come era prima la vita insomma, negli anni 50, negli anni 60 e ci raccontava appunto alcune leggende altre le ho dovute approfondire con dei testi un po' più, diciamo, locali di autori locali che si occupavano di tradizioni popolari ma la maggior parte vengono tutte, diciamo, da ricerche sul territorio dove ho personalmente chiesto a, non so, a chi incontravo se c'era qualcosa che mi volesse raccontare della sua città, del suo paese, piuttosto che della frazione e anche durante la presentazione del libro mi è capitato che qualcuno mi avvicinasse e mi dicesse ma lo sai che, per esempio, non so, a Cleto c'è anche quest'altra leggenda ma lo sai che a sé la spetta c'è questa altra leggenda io segno e non è detto che magari nel prossimo non possa estendere appunto l'idea di raccontare un luogo attraverso la leggenda del luogo e comunque il tema del libro secondo me è proprio l'amicizia e i protagonisti, i personaggi ci ricordano sempre all'interno del libro con tanti dialoghi il mio preferito, vorrei leggerlo proprio la mia frase preferita il nostro libro siamo un branco e il branco non si vischia con la faccia come te forse erano anche illusi ma almeno abbiamo l'utopia di difendere la nostra terra da gente come te, che era depredata, venduta, umiliata non ti permetteremo mai di profanare quel luogo piuttosto distruggi i sigilli e non lo troverai mai mi è piaciuto aver fatto questo senso di unione di licizia che è presente in tutto il libro soprattutto con le citazioni che sono ricordantissime soprattutto nella fine dei capitoli e appunto volevo sapere come mai questa scelta di inserire una citazione a ogni fine capitolo allora innanzitutto perché queste citazioni mi hanno anche nella vita ispirato poi era anche un modo per far riconoscere l'autore della citazione e quindi far spingere l'autore a scoprire quel libro dal quale insomma è tratta la citazione e di certo l'amicizia è il valore fondamentale di questo libro ma anche l'amicizia intesa come persone che tu incontri sul cammino che non immaginavi mi pare che è successo anche poi cioè parlando poi con Maria Grazia mi pare che capita che le persone si incontrino per caso e decidono poi di fare un'avventura insieme un percorso insieme ed è una cosa che è una più bella persone ma è improbabile che si incontrino magari anche bevendo un bicchiere di vino in prima fila c'è qualcuno di cui parlava del vino ma adesso è un posto, sono saluti io penso questo che l'amicizia anche quando è insieme per insieme condividere delle situazioni insieme possa portare ad approfondire i rapporti di amicizia in questo caso il rapporto di amicizia è basato anche su delle persone che hanno la voglia di non dire vabbè è così, non possiamo farci niente oppure dire vabbè il mondo va a rotoli lasciamo che vada a rotoli invece loro decidono di dire no ok facciamo la nostra battaglia troveremo altre persone come le troveranno sul loro cammino e un uomo al suo modo io penso per esempio a Fabio che è il disabile della situazione decide di dire no io non sono disabile i disabili siete voi che decidete di essere proprio persone ferme invece no lui cerca di crearsi il suo spazio se lo crea essendo secondo me uno dei punti legati del gruppo e l'amicizia nasce anche da questo dal fatto che come il gruppo può sembrare la persona più sicura in realtà non lo è alle volte perché ha bisogno di alcune conferme proprio perché guardando sullo specchio spesso e volentieri non sa riconoscersi e dagli amici arrivano le risposte che poi magari sono dentro di lui e ha bisogno soltanto di essere stimolato per farle venire fuori quindi l'amicizia è fondamentale nel libro e nella vita reale e a proposito dei personaggi qual è quello che ti rispetta di più e qual è quello invece che ti sia divertito maggiormente nell'escrivere nello scrivere ecco questa è un'altra domanda particolare perché poi in realtà no sul libro tutti i personaggi a parte ma me sono un po' caratterizzati da quello che è la mia idea dei personaggi quindi ho aggiunto sicuramente delle cose che mi appartengono quindi tutti i personaggi hanno un po' di me un po' mi piacciono sicuramente quello che mi mi ispira di più forse perché mi è molto vicino ripeto che Fabio per quanto riguarda il fatto di non mollare mai poi c'è anche l'amicizia con Luigi che è una parte fondamentale perché siamo molto simili e diversi sia nella vita reale che nel racconto però l'idea di Fabio è come se fosse quella parte di te che tu non puoi accettare e che in realtà ti spinge ad accettare perché ti guarda allo specie ti guarda insomma con una sorta di sincerità mi lamento io quando in realtà lui è più forte di me forse è il vero supereroe del racconto però penso che siano un po' tutti i personaggi a rappresentare un pezzettino di me divertito farne qualcuno forse a dare delle parole a dei personaggi cioè non farli parlare e farli raccontare delle cose in un determinato modo anche quando magari non so mi prendono in giro o piuttosto quando si organizzano delle cose tipo delle mangiate tanto per cambiare e poi si finisce magari a bere e a raccontare delle aneddoti quindi io penso che sempre la compagnia nel centro di tutto qui un altro punto cardine comunque dell'opera di cui abbiamo anche parlato durante questo intervisto è proprio l'ambiente Libramenti nasce come associazione culturale quindi vuole rendere in qualche modo conflenti più bella di quanto oggi sia un esempio ad esempio il Morales che è stato realizzato siccome fai parte anche di associazioni che si preoccupano della salvaguardia del territorio volevo sapere quale consiglio potevi dare sia a me come associazione ma in generale a tutti per la tutela proprio dall'ambiente quindi questa è una domanda più personale rispetto a me che sui libri guarda io penso che nessuno di noi deve avere l'aspirazione di cambiare il mondo però magari puoi cambiare il tuo piccolo mondo quello che c'è vicino a te quindi non puoi aspettarti che il mondo cambi di giorno all'altro non è pensare che magari non so i cambiamenti climatici piuttosto che l'inquinamento possono cambiare se non è uno stato che impedisce alle persone di consumare plastica piuttosto che utilizzare le bottiglie di vetro quindi deve essere comunque qualcosa che nasce da noi nasce sicuramente dalla scuola nasce sicuramente dalla famiglia e anche dalle persone come voi come noi che ci si unisce e si decide magari di raccontare un luogo di decidere di fare dei cartelli per non sporcare il bosco ad esempio non so quando si fa fare un picnic piuttosto che cercare di spingere le persone a utilizzare non so anche delle lampanine ma risparmio energetico o i comuni utilizzare il solare piuttosto che altri tipi di energie quindi io penso che dipenda soprattutto dalla persona cioè dal singolo quindi non c'è un consiglio vero e proprio il consiglio secondo me è quello di cercare di trovare persone simili a noi che avevano la stessa voglia anche se mai all'inizio sembrano pochi di intraprendere un percorso e ripeto come voi quando vi siete uniti la prima volta avete avuto l'idea di creare questa associazione non immaginavate di arrivare a questo punto non immaginavate di creare un murales non immaginavate di creare tutta questa eco mediatica che c'è stata e c'è tuttora di arrivare a un festival quindi dalle piccole cose che alle volte sempre non aspettate ma niente accade per caso sono accadute e ci possono portare a cambiare davvero il mondo però non dobbiamo pensare di cambiare il mondo dobbiamo semplicemente viverlo e vivendolo alla fine lo cambi grazie allora questa è la mia ultima domanda ci siamo allora l'opera si conclude comunque con quello che si chiama in genere come un cliffhanger ok? quindi un colpo di scena io vorrei uno spoiler sul sequel dato che hai detto che comunque ci sarà una trilogia quindi solo puoi fare uno spoiler allora ok calcolando che nessuno mi sa che ha letto il libro che comunque è lì a destra anzi è la vostra sinistra ok la mia destra è la vostra sinistra chi lo volesse acquistare sì perché non posso dire come finisce però posso darvi un'idea di quello che potrebbe essere allora innanzitutto un bambino mi ha fatto notare questa cosa mi ha fatto una domanda ho fatto la presentazione a Antonio Castello c'è un bambino di 10 anni mi ha detto ah però si chiama la quarantesima porta e tu quindi vuol dire che ce ne sono altre 39 bravo bambino hai capito tutto ce ne potrebbero essere anche di più io ho detto della quarantesima porta quindi siccome si chiama la compagnia del lupo e la quarantesima porta già ti annuncio che gli altri si chiameranno un po' come Harry Potter questo che sai c'è il quaderno di Harry Potter e sarà sempre la compagnia del lupo e qualcos'altro ho già in mente il secondo titolo posso dirti che uno degli spoiler è sicuramente che non si fermeranno in Calabria arriveranno sicuramente in Sicilia questa cosa perché c'è un collegamento con un personaggio storico che comunque mi piace anche perché nei personaggi storici realmente esistiti ha delle teorie che ci sono con delle leggende che ci sono quindi ci sarà anche un collegamento con la Sicilia e la Calabria andranno anche all'estero in un posto che però se te lo dico poi già spoileriamo qualcosa però ti posso dire che già in lupo siccome se ne parla anche nel primo racconto si fa molto le leggende nordiche qui diciamo così sì esatto si fa le leggende nordiche norrene e poi ovviamente ci saranno anche degli altri personaggi che adesso all'inizio sono stati visti in maniera molto marginale poi saranno un po' più presenti non posso dire per esempio lo spoiler non c'è di spoiler la parte finale se no la parte finale si capisce che dovrebbe essere più presente ok ok e poi ci saranno dei colpi di scena ancora più grossi soprattutto nel secondo dove i personaggi diciamo che al momento sono personaggi principali non dico che potrebbero diventare secondari però faranno delle scelte ecco faranno delle scelte e ti posso spoilerare un'altra cosa perché questo è un progetto diciamo editoriale all'inizio non lo potremmo fare perché comunque era il primo ogni personaggio ha delle caratteristiche nel progetto c'è di fare una sorta di come dire bio ogni personaggio mettere all'interno del libro oltre a fare una mappa della Calabria in maniera molto particolare infatti in maniera fantasy sulla base di quello che sarà insomma il racconto del libro che poi si estenderà nel secondo e nel terzo teoricamente dovrebbe essere una trilogia ma qualcuno mi dici che non mi fermerò a te non lo so ancora però di certo ci saranno molte 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 cose nuove e ogni giorno mi arrivano delle ispirazioni perché mi arrivano così queste ispirazioni guarda girando i posti non c'è un modo di descriverle che cosa vuoi dire a chi dice che il fantasy è un genere per bambini questa è una cosa intropria ma anche viene detto penso che debba essere stigmatizzato quindi tu cosa ne pensi e cosa vuoi rispondere ma guarda il fantasy non è per bambini anche perché se noi pensiamo anche a andiamo indietro nel tempo e pensiamo all'Illida e l'Odissea o pensiamo ai miti greci quella è la fantasy quindi le leggende in generale sono fantasy cosa scusa? la persona ah beh dire no il fantasy secondo me vale per tutti almeno quelli a cui piace il fantasy ovviamente io ripeto amo questo genere perché nella mia mente alle volte le immagino quando l'ho scritta questo romanzo come una serie Netflix perché io pensavo sempre ah boh ambientano i racconti tutte queste serie Netflix Netflix in America in Inghilterra in tutti i posti dove ci sono che sono Stonehenge New York ma perché non l'ambiente di Calabria quindi mi sono detto guarda facciamo così cerchiamo di scrivere un libro che abbia dei personaggi particolari ecco che richiamano molto un po' la nostra terra i nostri luoghi dove ci sono tantissime leggende e posti che magari nessuno di noi conosce e che hanno uno una caratterizzazione personale infatti io immagino non per forza per la compagnia del luogo ma anche per qualche altro libro che ci sia quel libro che ci sia qualche fantasy in mente di Calabria mi piacerebbe tantissimo che ci fosse qualche personaggio che nascesse proprio qui in Calabria e che la Calabria diventasse meta turistica non per solo le spiagge o le montagne ma proprio per morire delle storie che vengono ambientate in quei luoghi quindi io da tutto l'altro chissà il fantasy per l'amberese può esserci quindi perché no? non è che ti spostavo davanti a la salta di me no io volevo chiedere i luoghi che hai visitato e tu hai fatto un viaggio attraverso questo libro attraverso i personaggi quindi hanno fatto questo viaggio immagino che la hai fatto pure tu qualche punto questo viaggio e hai immaginato non solo i personaggi ma hai vissuto questi luoghi per creare la tua storia cosa hai provato facendo queste esperienze e soprattutto cosa pensi che possa migliorare in questo Calabria? penso che Calabria sia più il produttore del nostro festival in momento quindi questa è una più ci darà la tua impressione ancora sì diciamo che già parte dei luoghi li ho visitati tutti perché alla fine poi o per chi lo sta iscrivendo o per chi comunque ti va di visitarlo decidi di andare a vedere se quello che comunque hai letto o quello che comunque è un luogo che hai visitato corrisponde davvero alla realtà quindi tutti i luoghi che sono stati raccontati nel libro io comunque li ho visitati per vedere se quando poi ci andavo ecco mi davano proprio la sensazione che mi ero immaginato ecco perché sto ancora visitando molti luoghi per me il libro è un viaggio nel viaggio mi dà veramente molta emozione quando lo scrivo e quando lo rileggo perché mi sembra veramente poi di aver vissuto quelle situazioni quelle decisioni quindi ambientale non so un capitolo del libro all'orica piuttosto che in un altro posto mi fa pensare a quella stradina dove io ho incontrato per esempio e poi mi ha invitato per prendere una tisana quindi è come se ci fossi stato davvero tant'è che poi ci sono anche delle persone che leggendo il libro mi hanno detto ah sai questa parte qua è come se ci fossi stato davvero anche io ed è capito qui di sé ne parlavo con una una persona che l'ha letto e ho detto guarda non l'ho scritto per te il libro il libro l'ho scritto per tante persone forse diciamo mi appartiene ma ti appartiene perché penso che quando racconti qualcosa di personale anche se è fantasy qualcuno si rivede si rivede magari non lo so nella forza dei personaggi nel luogo stesso che ti dà un'energia particolare come per esempio quando si va nella flaggetta infatti ad esempio quando faccio tutte le passaggiette nella flaggetta di sera stretta piuttosto che in altri luoghi qua in Calabria ci sono postazioni meravigliose che magari io non conosco ancora bene però conoscendoli con il tempo posso diventare dei luoghi magici perché per me sono luoghi magici questi posti raccontati dal libro e altri che voglio scordire quali luoghi ti è rimasto più da un cuore che ricordi ti dà più sensazione che hai scritto nel libro? guarda sicuramente la scena che io racconto sul Colle dell'Infinito è una scena reale cioè non è una scena che ho fatto davvero sì quella dell'Armagnale cioè io ho molte scene che ho fatto da un certo magari non come dire da un uvo penso però sai quella scena non esiste davvero sono molte scene che ho descritto le ho vissute quindi che ne so io per me il Colle dell'Infinito sopra la mese a polveracchio rappresentato un posto magico perché con Luigi abbiamo fatto davvero lo scambio dei bicchieri dicendo alcune parole sull'amatici per le foto quindi documentiamo questi sono degli spoiler dell'altro libro di questo libro e poi sì ci sono anche degli altri luoghi che mi piacciono molto insomma che mi ricordano qualcosa come non so anche cantarelle e le api perché esistono davvero non sono le che sono diciamo raccontate e non esistono quindi ci sono davvero le api per cantare le le armi perché ce le ha Luigi quindi sono tutti i ricordi alcuni che in realtà non sono totalmente inventati o frutto della mia immaginazione quindi penso il collo dell'invito sicuramente non è il primo posto e poi probabilmente anche cantarelle molto è un posto di cui parlerò però nel secondo quindi non te lo dico però c'è un altro molto importante mi è venuta in mente una cosa che è i personaggi sono comunque tutti adulti nel prossimo libro ci sarà magari l'introduzione di un ragazzo o una ragazza marina della nostra età o di un bambino anche più piccolo sì nel senso che già c'è un personaggio del libro che sarebbe il Luigi piccolo cioè sarebbe quel bambino ecco così poi ci saranno gli altri personaggi sì piccoli particolari anche là perché ci sono dei racconti su questo su questo coraggente quindi la domanda è molto interessante perché come dire hai centrato anche l'idea che c'è nel libro cioè di raccontare anche un po' l'idea dei bambini e ci sarà un capitolo questo è proprio uno spoiler su sul personaggio proprio di Luigi piccolo perché non è un personaggio lasciato a caso cioè non è stato fatto così quindi avrà per esempio un ruolo più importante diciamo nel secondo il secondo volume quindi è colto nel serio vabbè c'era anche il piccolo principe quindi per forza era qualcosa eh sì sì il piccolo principe assolutamente sì sì ci sono molte cose che comunque poi ti riportano anche l'idea dell'amicizia del piccolo principe nel primo non l'ho voluto scrivere la questione sai del possesso perché nel piccolo principe si parla molto di questo di lasciare andare e di di non prendere diciamo l'amicizia come qualcosa di possessivo nel primo non si capisce nel secondo spero di riuscire a esprimerlo meglio perché poi questo è un concetto fondamentale però in una compagnia ci può stare dopo questo il fatto che delle amicizie possono nascere possono finire o comunque possono cambiare quindi questo sarà sicuramente fatto nel secondo una domanda perché proprio il luvo perché è un altro animale mitologico o un'altra criatura mitologica un'altra criatura non umana ecco perché dopo il gruppo perché poi in un teso non può mannare non può mannare però sì 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 però la domanda è giusta la domanda è giusta non sai perché allora rispondo a questa domanda di Noemi però io penso questo allora prescindendo che molti di noi pensino di avere un animale guida comunque un animale che ti piace molto io ho diciamo la doppia fortuna perché nei paesi succede penso anche a voi le famiglie hanno dei sovrannomi sì ok la mia famiglia a San Biasse le ne ho chiamate i lupi quindi questa è una delle prime diciamo cose la seconda è perché il lupo mi è sempre affascinato in quanto è uno dei pochi animali che è diciamo ha una compagna per tutta la vita si occupa della prole ha un branco e il branco non lo segue per forza perché è un leader lo seguo perché comunque si sostiene la vicenda quindi comunque fare parte del branco non significa per forza di essere un leader di quel branco quindi per me significa anche questo che nella compagnia non ci deve essere un capo poi c'è qualcuno che magari può avere un'idea in quel momento non incerto però come nella compagnia solo perché il lupo me l'hanno voluto mettere al centro ma in realtà non è al centro quindi potrebbe stare anche ai margini e poi perché il lupo secondo il mio diciamo pensiero filosofico ricollega molti aspetti della personalità umana io lo voglio spiegare così al momento diciamo nel primo volume ho fatto conoscere diciamo la personalità del lupo nel secondo e nel terzo il lupo capirà anche chi è realmente e perché si trasforma il lupo con la rabbia io penso che il lupo rappresenti molto dell'umanità perché viene descritto altre volte come cattivo nelle favole in realtà molti di noi possiamo venire ad essere descritti come cattivi perché veniamo giudicati cattivi in realtà bisogna conoscere per poter vedere se veramente il lupo è cattivo o se è soltanto una favola io penso che il lupo non sia cattivo e quindi il lupo rappresenta un po' l'essere non l'animale l'essere che fa parte della storia e della mitologia perché io parlo molto di mitologia proprio di questo lupo quindi di fantasy al lupo si sposa perfettamente non il vampiro ma anche il mio lupo sai da ci stare e infatti mi condizioni una frase con il giusto lupo al tuo fianco qualunque foresta di notte piena di rivelazioni quindi questo forse lascia intendere e completa il senso di tutto esatto io volevo parlarti volevo chiederti della copertina è una copertina bellissima che rappresenta la diversità se la riuscite a vedere sono poi lì mi piace tantissimo il fatto che ogni ragazzo abbia la sua personalità e che rappresenta tutto la diversità almeno questa è la mia chiave assolutamente assolutamente sì perché allora se se si osserva più tanti la copertina del libro io devo ringraziare Laura Federe che è una designer che si occupa proprio di questa di questa locandina ma anche di altro della casa di T la cosa bella è che io avevo in mente questa locandina però non lo sapeva mi dico guarda ti dico più o meno come vorrei che venisse ti mando le foto dei personaggi perché comunque sono tutti personaggi reali vedi quello che riesce a fare dopo un mese mi sono arrivati i bozzetti in bianco e nero con dei colori non avevano ancora diciamo i colori che hanno in copertina e sono rimasta a bocca aperta perché ha fatto Fabio identico cioè come lo volevo io anche con l'esoscheletro Luigi l'ho fatto pure come lineamenti del piso uguali l'aria è spiccicata Giuseppe anche sul lupo mi sono stato io a dirle di non farlo troppo simile diciamo a me anche se qualcuno di certi somiglia però poi non ce l'ha a fare quindi è comunque stata fedele a questo diciamo questo stile e poi comunque volevo assolutamente che fossero dei personaggi che rappresentassero come Totoo l'unicità e la varietà di ognuno di noi quindi è un caso che Fabio sia disabile perché comunque Fabio nella vita era effettivamente risabile quindi io ci tenevo che ci fosse però ognuno ha una sua prerogativa ed è un personaggio diciamo è arrivato l'editore in questo momento che lo avete visto passare davanti alle telecamere lo faccio accomodare alla mia testa è stato editato dal mese è ritardo perché viene dalla Sicilia il preghetto ha fatto un po' di ritardo è stato un po' complicato è stato un po' con il lavoro però chi ne è arrivato guarda possiamo dire che è riuscito ad arrivare Marco Marchese diciamo il nome sì sì ok l'editore si chiama Marco Marchese e l'attricione di Torelli dell'Ecleto adesso sto spostando tutto ma secondo me è meglio che i temicini che non vorrei che a livello di telecamera ci sta grazie meno male che il pubblico segue e mi dice anche se va bene o no soprattutto le due la destra no senza fare differenza scusca ok io ho risposto alla domanda della copertina che mi piaceva molto perché lei è stata proprio brava nel concepirla ci saranno anche delle variazioni ovviamente nella seconda perché ci saranno anche delle variazioni su diciamo l'avvigliamento dei personaggi cambierò delle cose e così via questo è un altro spoiler però qui ne parleremo noi bisogna riuscire a bocchino del tempo potrebbe potrebbe darsi un viaggio ha un'altra dimensione allora diceva qualcuno in un film della Marvel diceva sappiamo talmente poco del multiverso non dico nulla non vi dico niente però di certo l'avvigliamento cambia per delle ragioni anche tecniche perché diciamo siccome Fabio è un uno scienziato ecco avrà sicuramente voglia di cambiare look perché forse magari sai è diventata un po' antiquata questo tipo di esoscheletro ti do quest'idea poi sicuramente ci sono tante questioni che hanno a che fare con il tempo lo spazio perché noi qui rischiamo passato presente anche futuro non lo iscrudo non lo iscrudo però c'è di tutto si può esserci passo la parola a Marco ok allora dai giusto che è arrivato facciamo parlare l'editore mi ripeto ti rubo un attimo e vi passo un po' se ci arriva dai un piccino buonasera allora io ti scuso prima di tutto per il mio ritardo ma purtroppo rientrando dalla Sicilia oggi ci sono un po' di rientro ed è stato un po' complicato attraversare lo stretto perché c'era veramente c'era veramente molto traffico sicuramente Riccardo vi avrebbe parlato diffusamente del libro e poi vi avrebbe fatto delle domande io ho una domanda avete una domanda per l'editore oppure vado a ruota libera vado a ruota libera va bene allora prima di tutto vi dico che sono molto contento di essere qua perché Riccardo in questo periodo ha preparato un tour calabrese fra luglio e agosto molto serrato quindi siamo presenti in tantissimi comuni abbiamo ricevuto tanti inviti e quest'anno dopo due anni e mezzo di pandemia e quindi di limitazioni e quindi di scasse possibilità di incontrare i lettori di presentare i libri la possibilità di farlo in questo momento ci rendo davvero felici perché avere il rapporto diretto con i lettori l'incontro fra lettori e autori e autrici io ogni volta che posso comunque i miei autori vi accompagno vabbè con Riccardo sono pure abbastanza obbligato devo dire perché altrimenti si ordinerebbe il rapporto coniugale quindi qualcuno dovrebbe uscire di casa no ma scherza naturalmente e vi posso raccontare di questo libro un paio di curiosità questo è per Riccardo il suo secondo libro il suo primo libro è di Chiaruniti che è uscito a novembre del 2019 il nostro libro ha sei mesi il rapporto che Riccardo ha con il suo editore è un rapporto un attimo particolare perché noi non abbiamo bisogno di darci un appuntamento quando dobbiamo parlare delle cose tecniche voglio dire dell'uscita dei libri perché vivendo su tutto lo stesso tetto allora diciamo che la questione piuttosto che darsi un appuntamento in ufficio o da qualche altra parte allora le cose nascono tra la cucina e il soggiorno un minaccio un minaccio poi naturalmente in virtù anche di questo rapporto io sono molto grato a Riccardo che scrive molto bene perché me ne sono accorto dalle recensioni che mi arrivano dai lettori perché se il tuo compagno ti dice tu avere casa editrice adesso tu mi pubblichi il libro e se il libro non c'ho pecca diventa veramente un problema segno naturalmente per fortuna non è così quindi questo è quello che vi posso raccontare sulla nascita dei libri allora mi ritengo due volte fortunato perché comunque Riccardo scrive bene e utilizza una tecnica che è un po' un piccolo trucco per catturare l'attenzione agli lettori che è la tecnica del racconto quindi del romanzo anche lungo perché qui siamo sulle 200 pagine però fatto di capitoli brevi allora i capitoli brevi danno come posso dire movimento al romanzo ed è una di quelle cose attraverso le quali uno si ritrova a questo libro in mano comincia a leggere dei capitoli magari si è fatto anche un po' tardi tu guardi d'orlogio sono le 11 di sera poi vai un po' avanti e dici vabbè non si trova il prossimo capitolo è soltanto 5 pagine ma lo leggono in 12 minuti di sdrigo e poi di capitolo in capitolo spesso magari ci si ritrova alle 2 di notte però soddisfatti magari di aver fatto una buona lettura questo naturalmente sulla base dell'esperienza adottata fino adesso perché poi dopo sono sempre i lettori che governano queste cose sono sempre i lettori che ci diranno e ci faranno capire se effettivamente la lettura è stata piacevole se è stata vincente se ha lasciato soprattutto qualcosa questo volume ha una delle caratteristiche anche particolari perché rientra perfettamente nella linea editoriale della casa editrice in quanto nella linea editoriale della casa editrice c'è la valorizzazione del territorio quindi qui dentro in questo volume voi troverete tutta una serie di chicche tutta una serie di elementi tutta una serie di nozioni anche poco conosciute che sono state disvelate nella nozione piazzate nella narrazione e che fanno piacere tant'è vero che diversi diversi lettrici diversi lettori anzi comunque ho un fiorella la trasera è una persona che noi conosciamo Cleto ha detto guarda mi è piaciuto tantissimo questo libro perché ad un certo punto mi è venuta voglia a visitare questi luoghi che tu hai descritto tutti quei racconti quelle leggende che hai narrato quei posti e questo è molto entusiasmante viceversa avviando la conclusione del mio intervento vi posso parlare un po' della casa editrice la casa editrice è nata appunto a novembre del 2019 in un periodo super fortunato perché dal via pochi mesi arriva la pandemia quindi tu già decidi di aprire il cassetto dopo 30 anni il cassetto dei sogni dove c'era questo sogno della casa editrice che era rimasto chiuso per 30 anni allora tu lo apri però devo fare un passettino indietro Riccardo scrive il libro che era il suo sogno del cassetto io nel mio cassetto ci stava la casa editrice perché ce l'avevo provato 30 anni fa a 18 anni avendo veramente scarsissima fortuna perché ero scarso di me di scarso di esperienza la casa editrice mi è durata 6 mesi e fuori chiusa ok quindi è rimasta là apri il suo cassetto fondiamo la casa editrice piccardo ha scritto il libro c'è tutto per lanciarlo tac dopo qualche mese arriva la pandemia siamo a posto come dice un po' ritorno al passato dopo 30 anni però come cose sono andate bene perché piano piano sono in cominciato ad arrivare altri non scritti sono arrivati altri attrici altri autori adesso siamo arrivati ad un catalogo in due anni e mezzo siamo arrivati ad un catalogo di oltre 20 volumi ne abbiamo ancora una decina da pubblicare che saranno pubblicati un paio di un paio ancora quest'estate e poi dopo 7-8 sono pronti sono pronti per l'alunno perché fondare una casa editrice in Calabria che è insieme alla Sicilia la regione dove si legge più meno è un po' contro senso dal punto di vista commerciale la scelta è veramente una scelta difficile no? vedete gli ultimi dati ci dicono questo sono dei dati drammatici da un certo punto di vista però bisogna analizzarli bisogna prenderne atto bisogna anche cercare di capire come poterli mediare a questi dati che non sono indusifanti in Calabria in Sicilia sono le due regioni italiane dove si legge di meno in che misura si legge soltanto il 20% delle persone al letto delle attività curriculari hanno acquistato e letto un libro nell'ultimo anno nel 2021 l'attività e le attività curriculari sono praticamente acquisti un libro perché mi devo aggiornare per la mia professione quindi sono al letto di questo solo il 20% ha letto un libro il contrappeso a questo dato è la provincia autonoma di Bolzano dove è stato un libro opposto la provincia autonoma di Bolzano l'80% delle persone nel 2021 ha acquistato il letto un libro al metodo dell'attività curriculari quindi dal punto di vista commerciale puoi dire se tu vuoi fare solo con la casa di tenice vabbè già con la casa di tenice se sei appassionato uno dicevano piatterezza e fai altro in più aprendo il calacchere con questi dati dal punto di vista commerciale parte veramente di svantaggiare ecco io penso invece che è proprio qui che le case di tenice devono aprire e non a Bolzano perché poi a Bolzano ci stanno le case di tenice perché qui c'è bisogno di promuovere la lettura di produrre letteratura di produrre iniziative e di invogliare le persone a leggere perché è importante leggere? Il primo motivo è molto semplice è cultura ma perché è importante la cultura? c'è un parallelismo perfetto se noi analizziamo i dati di prima con i dati economici allora arriviamo a vedere come è composto il tessuto socio-culturale della provincia torna a Bolzano dove si legge tantissimo e andiamo a vedere il tessuto socio-economico calabrese e siciliano dove si legge molto di meno abbiamo capito già tutto e questo poi produce un'altra cosa altrettanto importante per stare bene che è economia quindi dove c'è un tessuto socio-culturale sano vivo c'è anche economia quindi c'è anche lavoro e si chiude il cerchio di una società che funziona bene che non ha disfunzione una di queste componenti è naturalmente la lettura che a primo a chitto per chi non è abituato a leggere può essere anche curioso come ne ho detto conto una persona che diciamo non è abituata a leggere ok quando arriva a pagina 15 non vuol dire se ne sta oggettivamente ne sta va bene però come ci ho riferito e come casa del diritto dice noi dobbiamo fare un passo in più ci stiamo attrezzando per far navare tutto il catalogo delle officine editoriali del reto che significa questo che insieme a un progetto abbiamo la versione digitale che magari può essere comoda perché c'è il computer il tablet chi vuole leggere già il formato elettronico oltre naturalmente al piacere di sfogliare di più in carta però io penso che se noi riusciamo a dare anche l'audiolibro che l'ascolto voglio dire è meno faticoso per chi non è abituato secondo me riusciamo a dare quel plus in più e riusciamo ad avvicinare più in persone alla famosa lettura perché poi la dinamica o dell'ascolto o della lettura proprio su carta o più digitale cioè quello che si apprende la stessa identica cosa cambia di poco la modalità però l'effetto che si vuole produrre quindi la semina di elementi culturali è assolutamente identica quindi noi questo tentativo cercheremo di farlo chiudo dicendo un'ultima cosa noi sono anche siamo orgogliosi con questa nostra piccola impresa editoriale quindi con il nostro catalogo con i nostri libri abbiamo fatto una ricerca all'interno dei nostri clienti perché noi facciamo distribuzione diretta cioè i libri li facciamo arrivare direttamente alla letterice e ai lettori abbiamo fatto una ricerca che è il 60% circa dei clienti della casa editrice quindi chi ci acquista un libro alle officine di penale del credo sono persone che non sono abituati frequentatori di librette allora questo ci riempie del lavoro perché significa che noi riusciamo a raggiungere un pubblico che comunque non è abituato e noi riusciamo ad instradarlo perché naturalmente se tu utilizzi come casa editrice soltanto il canale libreria dove comunque nel canale libreria lo sentiamo vabbè questa è una cosa un po' più tecnica ci sono dei grandissimi problemi sulla distribuzione libraria italiana e anche sulle librerie stesse se voi frequentate le librerie vi accorgerete dopo poco tempo che girano sempre gli stessi testi e sempre gli stessi nomi che sono quelli che appartengono ai grandi gruppi e che coincidono con quelli che si possono permettere le grandi campagne pubblicitarie e questo non va bene perché per esempio stanno scomparendo del tutto le librerie indipendenti dove ci sono i librai che fanno la selezione di ciò che mettono sul banco delle monità e nella propria libreria c'è invece un'omologazione una sorta di mainstream dove quasi tutte le librerie appartengono a delle catene le catene sono legate quasi tutti a dei grandi gruppi editoriali e poi ti girano sempre gli stessi nomi e sempre gli stessi titoli e questo qui non va bene ecco perché abbiamo un po' stiamo nel nostro micro nel nostro piccolo cercando di cambiare un po' le regole del gioco allora ho detto per me sai che c'è facciamo una distribuzione dirette adesso ci attrezziamo per gli audiolibri perché non è possibile che l'audiolibro che è interessante e bello tu in Italia lo puoi acquistare solo attraverso Amazon che possiede una società che si chiama OdiBomb ma che non ti lascia la libertà di dire nei tuoi tredici tuoi c'è il libro dedicato che mi interessa acquistare come fai per ascoltarlo no? devi fare l'abbonamento naturalmente negli Stati Uniti in Canada in Australia nel Regno Unito i consumatori voglio dire gli hanno detto di no all'Amazona lì è possibile fare questo in Italia no in modo bizzarro prima per l'abbonamento e dopo poi accedere a credito e questo non è giusto perché se io sono interessato solo al libro dedicato non ho capito perché devo essere obbligato a fare questo benedetto abbonamento bene l'officina editoriale da tanto appena riusciranno ad organizzarsi e si stanno attivando e attrezzando per farciò l'audiolibro insieme alla versione cartacea lo darà gratis io li ringrazio per avermi ascoltato mi scuso di nuovo per il ritardo mi taccio è stato davvero un piacere ascoltarla è la storia un'altra speranza insomma è anche bello il ritorno dopo tanti anni a coronare un sogno insomma bellissimo grazie il signor Marco Marchese e il ritardo cristiano per la loro comprensione per essere qui è molto molto insomma grazie mille ci vediamo stasera alle 21.30 a Borgisora a Piazza Visora per la presentazione Contro i Borghi e il bel paese che dimentica i paesi con Mariano Marotta e il professore Gersosimo ok stasera grazie mille grazie